Il gioco era immenso, lo chiesava in un modo ruvido, cioè il cucinato lui non lo sapeva fare. Era una specie di Hulk, te lo ricordi? Aveva delle pietre nelle mani e con i cazzotti ammazzava degli animali enormi. Se ti toccava ti faceva male, ti poteva pure ammazzare diciamo. Nonostante Gio non abbia mai vinto una medaglia o una cintura, nella sua categoria è stato uno dei pugili più forti di tutti i tempi. Gli dicevano proprio tutto, comunista, mangiatore di bambini, nemico dello Stato, rosso. Guarda che adesso se ti dico una cosa mi devi credere. Giuseppe è stato uno dei migliori pugili del mondo, del mondo, no d'Italia, del mondo. Che faccio? Ma era un cazzo? Cavi Camorà Esposito, e allora? Come si fa? Mi piacerebbe trovarlo, mi piacerebbe incontrarlo. Aggiore 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 Grazie a tutti.